Buongiorno a tutti i telespettatori di TV 12 e ben trovati in diretta in nostra compagnia per l'appuntamento del mattino dedicato alla rassegna stampa. Noi siamo pronti per andare a scorrere assieme a voi i quotidiani che troviamo oggi in edicola giovedì 20 aprile sulla stampa locale Ampio Spazio come abbiamo fatto anche noi ieri sera agli sviluppi nelle indagini per l'omicidio del Senzatetto nella galleria dell'ex Cinema Capital. C'è stato un fermo nella serata di ieri arrivata alla conferma da parte della Questura. Alle 11 questa mattina ci sarà anche una conferenza stampa per i dettagli sugli sviluppi appunto delle indagini. Oggi alle 11.30 è attesa anche la conferenza stampa del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga che annuncerà la sua nuova giunta. Questo per quanto riguarda la stampa locale, la cronaca locale ma noi iniziamo come sempre la nostra rassegna stampa dai quotidiani nazionali. Scorriamo velocemente le prime pagine per vedere anche quali sono i temi in primo piano in ambito nazionale. Allora ecco la prima del Corriere della Sera che oggi apre con questo titolo PNRR il richiamo ai ministri. Il governo sì alla fiducia per i fondi europei, regia e più poteri a Palazzo Chigi e poi c'è il piano meno tasse per chi fa figli scrive il Corriere della Sera. Fitto, cambi necessari, no alle resistenze e tensione tra alleati sul decreto migranti che è stato anche modificato per venire incontro ai richiami del Colle in particolare per quanto riguarda le norme sulla protezione internazionale. Poi vedremo queste notizie riprese anche sugli altri quotidiani. A centro pagina la fotonotizia sportiva ci porta a parlare di Champions. L'Inter vola in semifinale e ora il derby con il Milan è finita ieri 3 a 3, ieri sera la gara tra Inter e Benfica. Inter che passa dunque in semifinale contro il Milan. Una sfida nella sfida dice il Corriere. Repubblica, vediamo anche qui i titoli di apertura. Ministri sotto attacco scrive Repubblica. Polemiche nel governo. Lega e Forza Italia contro Lollobrigida per le parole su migranti e sostituzione etnica. Corretto il decreto cutro dopo l'intervento del Colle e i magistrati attaccano Nordio. Viola l'indipendenza, dicono i magistrati. L'IRA dell'Associazione Nazionale Magistrati per l'azione disciplinare dei giudici del caso Us, lo ricorderete, la spia russa che è stata messa ai domiciliari, poi è fuggita. Schlein sul PNRR basta scarica barile, pronta a incontrare Melone, la leader del Partito Democratico. A centro pagina, reportage con la guardia costiera tunisina, salviamo molte vite ma l'Italia non ci aiuta. Questo quanto scrive Repubblica. Andiamo anche sulla stampa e vediamo nel taglio alto. Migranti, il governo nel caos ridotta, la protezione speciale. L'ite tra Carroccio e Fratelli d'Italia sul decreto Cutro, necessaria la moral suasion del Colle. E poi sostituzione etnica, lega contro Lollo Brigida. Lui, sono ignorante, non razzista, detto il ministro. A centro pagina, il sorpasso in India più abitanti che in Cina, mentre cala la popolazione mondiale. Quanto conta il sorpasso demografico dell'India sulla Cina era nell'aria da quando Pechino lo scorso anno ha registrato il primo calo di popolazione dal 1961. Ora abbiamo i numeri, 3 milioni circa in più, a partire dalla metà di quest'anno. E intanto in Italia il ministro Giorgetti lancia la proposta a zero tasse a chi fa figli. I costi del piano Giorgetti sono però importanti. Andiamo anche sul manifesto, si torna a parlare di immigrazione, gioco sporco, titola il manifesto. Tra giravolte e colpi bassi si riaccende lo scontro a destra sulla protezione speciale. Palazzo Chigi blocca un emendamento della maggioranza al decreto Cutro e costringe la Lega a fare marcia indietro. Le opposizioni sono nel caos, Senato in mano a incompetenti e poi vediamo anche sul manifesto il governo ha un problema nordio, toghe in rivolta contro il ministro che ha avviato un'azione disciplinare per l'evasione di US. Ancora andiamo anche sul fatto quotidiano in apertura stesso tema. Non ne azzeccano una e bombardano i giudici, scrive il fatto quotidiano. Governo disastro, rissa a destra sui migranti e nordio processa le toghe. DL Cutro e caso US, Lodo Gasparri da rifare, magistrati in rivolta. Questa è l'apertura del fatto. Andiamo sull'identità. Cosa non torna nella fuga di US, scrive l'identità in apertura. Il braccialetto, l'allarme ignorato, la rabbia degli Stati Uniti, slitta il viaggio di Meloni e quella decisione su Chico Forti. Salta lo scambio con Evan, dice ancora l'identità. Se Roma non batte un colpo, il caso di Artem US sembra davvero destinato a cambiare definitivamente gli assetti geopolitici e i rapporti di forza alla base del patto atlantico. Andiamo a vedere anche nel taglio alto lo scontro sui migranti, fratelli, anzi figli d'Italia, la proposta del governo via le tasse ai nuovi genitori e anche sul lavoro l'idea è prima gli italiani. Cioè l'editoriale di Tommaso Cerno, De Tassati si nasce e io modestamente lo nacqui. Se l'avessero detto come Totò forse si sarebbe capito meglio dove il governo andava a parare. Bisogna dire che un partito che si chiama Fratelli d'Italia e che ha la cultura italiana nel cuore dovrebbe parlare la lingua italiana. Ancora andiamo anche sulla prima pagina del giornale. Reddito di gravidanza, niente tasse a chi fa figli. Il governo investe un miliardo per sostenere la natalità. Detassazione e detrazioni, ecco le prime ipotesi. L'idea di Paese di Meloni & Company prende forma. Un'altra notizia nel titolo di apertura del giornale. Malattie rare e oncologia d'avanguardia. Le nuove cure garantite inserite nei livelli essenziali di assistenza. Libero, niente tasse a chi ha dei figli. Il governo della famiglia scrive Libero. Il piano shock di Giorgetti contro la denatalità. Bitonci, detrazioni da 10 mila euro per ogni bimbo o ragazzo fino ai 21 anni. Il PD critica. Sulla prima pagina di Libero, a proposito di critiche e di attacchi, nell'editoriale di Alessandro Sallusti c'è un attacco al presidente della regione, Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Se il leghista Fedriga finanzia chi dà del nazista alla Lega. Una presa di posizione che prende spunto dalla pubblicità che è apparsa ieri e l'altro ieri su alcuni quotidiani nazionali. La Repubblica e la stampa pubblicità del Friuli Venezia Giulia. Allora, Sallusti scrive, immagino che molti di voi conoscano le bellezze del Friuli Venezia Giulia, ma da un paio di giorni qualcuno più fortunato di voi le conosce ancora meglio. Si tratta dei lettori di Repubblica e la stampa, due quotidiani di sinistra, che hanno avuto l'onore di essere stati comperati interamente, il primo ieri e il secondo martedì, dal presidente di quella regione. Il leghista Massimiliano Fedriga, scrive la stampa. E poi ancora scendendo, dice la prossima volta che lei avrà bisogno di una marchetta, di una difesa d'ufficio dagli attacchi di La Repubblica e la stampa, la pregono, anzi il telefono con noi, come d'abitudine. Queste le parole di Sallusti su Libero. Andiamo anche sulla prima della verità. L'America ritira il vaccino, imposto all'Italia col pass, l'ennesima conferma. Le Virostar ci hanno presi in giro. La Food and Drug Administration riconosce che contro Omicron ci vuole il bivalente. Il monovalente non è efficace, però è quello che Speranza e AIFA giuravano andasse benissimo e che fu reso obbligatorio di fatto con la tessera verde. Ancora, andiamo anche sul gazzettino. Zero tasse per chi fa figli, scrive il gazzettino in apertura. Per il ministro Giorgetti, il calo delle nascite è la vera emergenza nazionale. Subito sostegni. La proposta prevede il ritorno delle detrazioni e la deduzione dal reddito di 10.000 euro a figlio. Sul gazzettino c'è anche un'intervista a Grusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, che dice al nostro ciclo produttivo servono i migranti. Le altre notizie in primo piano, un maxi sequestro di cocaina, 850 kg in rada a Venezia. La droga era nascosta su una nave a largo. I complimenti alla guardia di finanza di Meloni e Giorgetti. E poi i veterinari con l'ORSA. Nessuno uccida JJ4. Questa è la presa di posizione dell'ordine provinciale dei veterinari nei confronti dell'ORSA che ha aggredito e ucciso un runner nei giorni scorsi in Trentino Alto Adige. E poi vediamo anche qui, giunta Federica, molte conferme, tre assessori a Fratelli d'Italia, come detto oggi la conferenza stampa del presidente della regione. Altre due notizie sulla prima del Gazzettino Nazionale. Vediamo, ho fermato un 28enne per l'omicidio del Senzatetto. Tra poco approfondiremo questa notizia. E poi, novità anche nell'inchiesta su una bomber, pasticcio reperti. Stop all'inchiesta. L'elenco dei pezzi non coincide con quello dei periti. Torneremo tra poco sul Gazzettino, il Gazzettino del Friuli. Adesso chiudiamo il nostro giro sui quotidiani nazionali con il sole 24 ore. Svolta green, costi fuori controllo, scrive il sole in apertura. Dopo le mosse su case e auto, riforma emissioni e dazio su importazioni inquinanti. In arrivo nuovi oneri su immobili, carburanti, industria e agricoltura. E poi, caldaia gas. Lo stop scatterà nel 2029. Anche qui a centro pagina vediamo la notizia sulla popolazione indiana che supera quella cinese. Giugno 2023. L'India scavalca la Cina prima al mondo per numero di abitanti. Lo sport con la Gazzetta dello Sport, tutto sport e corriere dello sport. Eccole qui le prime pagine sportive, le prime pagine di tre quotidiani sportivi di oggi. C'è in apertura la Champions con la semifinale Inter Milan. Derbissimo, scrive la Gazzetta dello Sport, con il Benfica basta al 3 a 3 come 20 anni fa. La stracittadina in programma il 10 e il 16 maggio deciderà una finalista di Champions. Real City l'altra sfida. E poi, invece, per quanto riguarda l'inchiesta sulla Juve, Juve meno 15 poco motivato, il procuratore chiede il rinvio alla Corte d'Appello. Adesso via la penalità o un nuovo giudizio? Intanto la Juve oggi sarà impegnata in Europa League a Lisbona con lo Sporting. La Roma in casa con il Feyenoord. Fiorentina quasi fatta per la qualificazione in Conference. Andiamo a vedere anche le altre prime pagine. Il Corriere dello Sport, Derboum, titola in apertura. Inter Milan in semifinale di Champions come 20 anni fa. E poi, Tutto Sport invece apre con sì, il meno 15 è ingiusto, clamoroso. Persino l'accusa contesta la sanzione alla Juve. Oggi la sentenza all'udienza del Collegio di Garanzia sul processo Plus Valenza. Il procuratore generale dello Sport offre un assist ai bianconeri parlando di carenza di motivazione e auspica il rinvio alla Corte d'Appello federale. Vinto intanto il ricorso sulla Curva Sud e sarà aperta col Napoli. E poi invece vediamo Vamos Juve per la partita di oggi contro il Lisbona. E nel taglio alto Eurosballo-Inter. Milano è in finale. Una delle due milanesi si giocherà la finale di Champions. Andiamo sui quotidiani locali adesso. Vediamo il messaggero Veneto di Udine. L'abbiamo detto in apertura. Troviamo la notizia del fermo di un uomo per l'omicidio del Senzatetto nella galleria dell'ex Cinema Capital a Udine. Questa è la prima pagina del messaggero Veneto di Udine. Omicidio di Luca. Un fermato. La polizia in via Deciani a casa del ventottenne Bruno Macchi. Il giovane interrogato e portato in via Spalato. Questo è il titolo di apertura. E poi nelle primissime pagine del messaggero Veneto vediamo appunto tutto l'articolo. Assassinio di Luca Tisi fermato un ventottenne. è stato accompagnato in carcere dopo un lungo interrogatorio di fronte al PM. Queste le ultimissime novità che appunto sono emerse nella serata di ieri. Una giornata movimentata. Quella di ieri in via Deciani dove la polizia è intervenuta. Torno alle 9.30 del mattino. E' affermato appunto due persone portandola in questura. Allora andiamo a sentire il servizio che ci riassume e ci racconta un po' quanto accaduto nella giornata di ieri e questa svolta nelle indagini per l'omicidio Tisi. E' arrivata nella mattinata di oggi l'attesa svolta nelle indagini per l'omicidio di Luca Tisi. Il senzatetto ucciso sabato scorso nella galleria dell'ex Cinema Capitol a Udine nella zona di Piazzale Usoppo tra via San Daniele e via Le Volontari della Libertà. Due uomini, un italiano e uno straniero sono stati portati in questura dagli agenti della squadra mobile coordinati da Francesco Leo proprio in relazione alla morte del senzatetto 58enne originario di Castions di Zoppola. Le due persone fermate sono state prelevate nella loro abitazione di via Tiberio Deciani attorno alle ore 9.30. Da quanto emerso vivevano assieme nell'appartamento al primo piano al civico 16 della strada che collega via Gemona a via Mantica a poche centinaia di metri dal luogo dell'omicidio. Uno dei due è stato fermato all'interno dell'edificio l'altro aveva tentato di scappare in un'abitazione limitrofa ma è stato poi bloccato dagli agenti giunti sul posto con più pattuglie come testimoniato i nostri microfoni anche da una vicina di casa. Lei signora cosa ha visto? Ho visto questa mattina, mi sono andato il campanello giù c'era un ragazzo che chiedeva di entrare per forza a casa mia e un momento dopo ho visto una volante che l'ha fermato e lo stava caricando in macchina. Non conosce questo ragazzo? Non conosco questo ragazzo anche se abita il civico prima di me. Quindi lei proprio ha visto tutta la scena alle nove e mezza? Sì, alle nove e mezza ha iniziato tutto ciò e adesso sono ancora in corso di concludere le vicende. Quindi l'hai visto una persona fermata, blindata da quel ziotto? Sì, e poi un'altra che l'hanno già caricata nella volante. L'abitazione dei due è stata poi passata al setaccio dalla scientifica in cerca di ulteriori indizi sulla possibile colpevolezza dei sospettati. Le loro posizioni sono al vaglio degli investigatori perché potrebbero aver avuto ruoli e responsabilità diversi nella vicenda. Il procuratore di Udine Massimoli ha confermato l'operazione aggiungendo che si stanno svolgendo ulteriori accertamenti che potrebbero portare sviluppi immediati nell'inchiesta anche in base all'esito delle verifiche che si stanno ultimando in queste ore. Il cerchio investigativo si è stretto dunque attorno ai soggetti che erano stati attenzionati a seguito di perquisizioni, ricerche e sequestri delle ultime giornate. Determinanti si sarebbero rivelate le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona che avevano immortalato un individuo che era in bicicletta e che in un orario considerato compatibile con quello in cui è stato commesso il delitto tra le 4.30 e le 5.30 di sabato è stato inquadrato mentre si allontanava dall'area della galleria. Come detto oggi alle 11 è stata convocata una conferenza stampa per fornire altri particolari appunto sugli sviluppi delle indagini su questo caso. Andiamo avanti con la cronaca e vediamo a centro pagina sempre sulla prima del messaggero Veneto di Udine è morto a 82 anni Paolo Londero storico farmacista e poi come abbiamo letto anche sul gazzettino caso una bomber trovati reperti diversi nell'elenco. Di spalla è morto l'uomo che era stato schiacciato da un trattore a Verzenis troppo gravi le ferite riportate. Vediamo anche qui il servizio che abbiamo realizzato. Gravi le ferite riportate Bruno Paschini 69 anni il pensionato travolto dal carico del suo trattore martedì pomeriggio a Verzenis in Cani è deceduto in ospedale nella serata di ieri. L'incidente si era verificato lungo una strada sterrata nella zona boschiva della frazione di Chiaicis dove si era recato per tagliare della legna. Per causa in corso d'accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Tolmezzo l'uomo ha perso il controllo del mezzo agricolo che stava conducendo venendo travolto dal carico di legname che stava trasportando e riportando così gravi lesioni. Dopo la chiamata di aiuto giunta al numero per l'emergenza sul posto i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'elissoccorso l'anziano era stato liberato dai vigili del fuoco che avevano lavorato a lungo per estrarlo dal mezzo che si era rovesciato. Finito in arresto cardiocircolatorio a causa delle gravi ferite è stato rianimato ma in quanto instabile e non trasportabile con l'elissoccorso è stato trasferito in ambulanza al Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso dove purtroppo è deceduto. Il cognato che aveva assistito all'incidente è stato colto da un malore. I vigili del fuoco hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario e con il supporto della squadra Spello Alpino Fluviale del comando di Udine che si trovava in zona per un addestramento. Ancora un doloroso lutto per la comunità di Verzegnes già assegnata dalla scomparsa della 18enne Martina Socciarelli rimasta coinvolta tragicamente nell'incidente stradale accaduto nella notte tra venerdì e sabato lungo la Provinciale 1. Domani il medico legale incaricato dalla procura di Udine effettuerà l'autopsia sul suo corpo. Il magistrato ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Parenti ed amici ora tendono nulla osta per i funerali. Ieri c'è stata la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza in vista della donata degli Alpini dall'11 al 14 maggio. A Udine sono state prese alcune decisioni importanti. Scuole chiuse solo sabato per la donata. Lo vediamo in questo titolo. A Udine la decisione è stata presa ieri e riguarda tutti gli istituti cittadini. I trasporti durante i giorni della donata, servizio navetta ogni 5 minuti da Campo Forbido. E poi è una curiosità, il tricolore arriverà con le paracadute sul colle del castello. Andiamo a sentire allora le parole del prefetto Massimo Marchesiello al termine dell'unione di ieri del comitato. Le decisioni sono state prese non nel comitato, ma nel comitato di coordinamento del grande evento, perché tale e tale deve rimanere e tale sarà. La scelta più importante, quella che era aspettata da molte persone, è quella della chiusura delle scuole, su cui anche parlando e condividendo col sindaco e soprattutto con la responsabile di arrivo a Udine, quindi l'inopportunità di avere trasporti destinati anche alle scuole. E soprattutto anche evitare che ci siano comunque veicoli privati che vadano comunque a portare i bambini o i ragazzi nelle scuole. Quindi purtroppo il sabato ci sarà una chiusura totale delle scuole. Piccole criticità che stiamo risolvendo. Oggi sono stati presentati ulteriormente i piani elaborati dall'ANA e poi comunque abbiamo tutto il discorso del sistema sanitario, che è a buon punto, quindi anche sull'approvvigionamento dei farmaci, sia nelle farmacie che anche all'interno del presidio medico avanzato. Abbiamo probabilmente risolto tutte le questioni legate al potenziamento dei servizi di telefonia e anche parlando con il responsabile dell'Enel la possibilità che ci sia un'interruzione improvvisa del blackout, che non si può escludere ma su cui ci stiamo comunque organizzando. Diciamo che queste erano le piccole criticità e buon ultimo ecco il discorso legato alla gestione intorno alla stazione, della canalizzazione e delle eventuali evacuazioni, su cui qualche piccola criticità, ma insomma la risolveremo in corso dopo. Si era parlato anche di possibili treni speciali, rafforzamenti vari? Ho già immaginato, già previsto da Trenitalia, anche da Italo con qualcosa in più, però diciamo che tutto il sistema è stato messo a regime e ovviamente l'impaginazione è pronta. Siamo alla politica adesso, come detto in apertura oggi, l'annuncio da parte del Presidente della Regione Fedriga della nuova giunta. Conferme e novità, oggi Fedriga presenta la nuova giunta, appuntamento alle 11.30, una conferenza stampa che anche noi seguiremo in diretta con collegamenti da Trieste a partire dalle 11.30. Rimanendo sulla prima pagina del Messaggero Veneto, andiamo nel taglio basso e vediamo nelle pagine della cultura la presentazione di un libro, un libro di Bearzot, giocare come Dio comanda il calcio di Bearzot, il libro raccontato nell'articolo di Margherita Reguiti, che troviamo nelle pagine della cultura. Andiamo sulle pagine del Messaggero Veneto di Pordenone e vediamo anche qui i titoli principali, anche in questo caso in primo piano c'è il fermato nell'ambito delle indagini per l'omicidio del Senzatetto, poi vediamo anche le altre notizie nel taglio alto, anche qui i periti del caso Una Bomber, al giudice dicono abbiamo trovato reperti diversi dall'elenco e poi il rinnovo del contratto, domani sciopero del settore legno mobile, legno arredo protagonista in questi giorni a Milano nell'ambito appunto del salone del mobile, anche tante aziende della regione presenti alla rassegna. Le altre notizie, la valorizzazione del noncello in primo piano, un contratto per il noncello, e poi è la scuola con gli effetti del callo demografico, oltre 500 iscrizioni in meno. Andiamo a vedere anche la prima pagina del fascicolo di Pordenone del Messaggero Veneto, dove troviamo approfondita proprio questa notizia. Nuovo anno scolastico, oltre 500 iscrizioni in meno, in due anni ne sono state perse nelle 40 scuole statali in provincia più di 1.100. Va definendosi la mappa degli istituti comprensivi che potranno subirne gli effetti. Dal Messaggero Veneto al Gazzettino, vediamo anche qui i titoli di apertura al dorso del Friuli, nel taglio centrale, senza tetto ucciso, fermato un 28enne, si tratta di un cameriere che ieri mattina è stato prelevato dalla sua abitazione, la polizia è arrivata a lui grazie ai filmati. E poi ancora sul fronte migranti, rotta balcanica, già finiti i posti per i migranti. Anche sul Gazzettino muore travolto dal carico del trattore a Verzenis. Andiamo nel taglio alto, l'attesa è finita, nasce la giunta del Fedriga Bis, anzi il vicepresidente Riccardi resta alla sanità, ammirante alle infrastrutture, queste le anticipazioni. Anche altri comuni chiamati al voto in quest'ultima tornata elettorale, varano le squadre di governo da Gemona a San Daniele, tutti i nomi. E poi vediamo nel taglio basso i richiami agli articoli che troviamo nelle pagine sportive, con il doppio ex Borin che parla della prossima sfida dell'Udinese, che non deve snobbare, i grigiorossi. E poi nel basket Palumbo è il jolly dell'Old Wild West che vuole svoltare. Andiamo anche sul piccolo di Trieste, e poi andremo sulle pagine sportive dei quotidiani locali, vediamo il giorno della giunta nel taglio alto, e poi invece in apertura. In 3.000 firmano le osservazioni contro la cabinovia, il comune di Trieste resiste ai ricorsi e ingaggia come codifensore il padovano Domenichelli. In primo piano quindi ancora il progetto molto dibattuto e contestato per la realizzazione di una cabinovia che dalle rive di Trieste porti sulle alture sul Carso. Andiamo adesso sulle pagine sportive dei quotidiani locali. Abbiamo appena visto i richiami in prima pagina sul dorso del friuli del Gazzettino, le parole dell'ex Borin. E allora ecco qua tutto l'articolo. Borin avvisa grigio, rossi, pericolosi e scomodi. Parla il portiere Veneto che ha vestito le due maglie. Ballardini ha agguantato salvezze miracolose, motivazioni forti, dice il portiere. E poi vediamo sempre sulle pagine del Gazzettino, nel taglio basso un altro fiulano in Lombardia, Abraida che dice crediamo ancora nella salvezza. Dal calcio al basket con l'Old Wild West, il jolly palumbo, doppio test da playoff, il regista dell'Old Wild West, le due trasferte da giocare nella fase a orologio sono importanti. E poi vediamo invece sul fronte gestecco. Patto con Lazare. Lascio a voi leggere tutto l'articolo perché siamo addirittura dal rivo e allora andiamo a vedere anche le pagine sportive del messaggero Veneto. Vediamo in apertura le parole di Abraida che dice e avverte, veniamo lì per vincere, il dirigente fiulano della Cremonese avverte i bianconeri, domani Abraida compie 77 anni, domani cari torna nella sua terra e spera di ricevere un regalo per coltivare il sogno salvezza. Queste le parole di Abraida. Intanto nel taglio basso vediamo le mosse dell'Udinese in vista della gara di domenica, mosse a centrocampo per Sottille, Ezibue e Samarzic rischiano. Scrive il messaggero Veneto. Vediamo anche nella pagina accanto Saxess e Beto, l'assente finora ha sempre ragione. Brenner ne sostituirà uno, si chiede il messaggero Veneto, guardando ovviamente anche al futuro. E poi per quanto riguarda invece il basket, americano all'Old Wild West, due consigli per gli acquisti. Alla più dall'8 al 12 maggio può essere tesserato un giocatore che sarà un lungo dinamico. Il mercato non offre molto in Paul Williams di Napoli e Hopkins di Reggio Emilia. C'è un jolly fra carte che la più andrà a giocarsi i play-off. E poi invece che qui ci vi dà, le gesteco ora prende il fattore campo, Battistini si gode del grande momento, l'ala MVP contro Piacenza dice domenica a Milano, sarà fondamentale. Chiudiamo questa pagina del messaggero Veneto e chiudiamo anche la nostra rassegna stampa di oggi. Vediamo velocemente, prima di salutarci, gli appuntamenti di questo giovedì sul nostro canale. Vi ricordo che dalle 11.30 saremo in diretta per seguire la nostra conferenza stampa di Fedriga da Trieste, quindi un'informazione dell'ora di pranzo che oggi inizia un po' in anticipo. Dalle 10 invece l'appuntamento quotidiano con Magazine. Alle 15 pomeriggio calcio, alle 16 il TG Flash del pomeriggio, dalle 19 la fascia informativa serale, alle 20.30 l'approfondimento dedicato al distretto delle tecnologie digitali, di Teddy Talks, e poi alle 21.15 come ogni giovedì l'appuntamento con l'agenda. di Alberto Terasso. Noi ci fermiamo qui, il meteo e poi la sigla e a tutti voi ancora l'augurio di una buona giornata. Ben ritrovati amici di TV12 da Emma Parigi di Trebineteo, aggiunge aria più fredda dal nord Europa e questo giovedì sul Fiorile Venezia e Giulia ne conseguono una certa variabilità e instabilità. Ebbene, entriamo più in dettaglio ed osserviamo cosa ci attenderà su Pordenone e Udine. Cieli grigi coperti e precipitazioni sparse, un po' più concentrate e insistenti sui settori montuosi. Temperature in conseguente diminuzione, clima un po' più freschino per il periodo. Ora osserviamo cosa ci attenderà su Gorizia e Trieste, qui il tempo sarà per lo più stabile e asciutto. Cieli grigi coperti, qualche goccia di pioggia sì possibile, ma fenomeni di poco conto. Poche le variazioni termiche, al più perderemo qualche grado. Tutti i dettagli, come sempre, vi attendono sull'app di Trebineteo eppure sul nostro sito web.